Siamo in una sala di incisione di Milano, dove nascono tutti i dischi del complesso dei Pooh. Stanno incidendo l'ultimo, scompletando l'ultimo 33 giri dal titolo Parsifal. Praticamente proprio da questo, cioè noi abbiamo voluto prendere per esempio un personaggio che poteva essere Nembo Kid, che poteva essere un qualunque super uomo, che però al momento appunto di scegliere tra quello che è la gloria, tra quello che è appunto il mito e la vita di tutti i giorni, sceglie nel nostro appunto Parsifal la vita di tutti i giorni. Chiaro è il mattino che nasce dall'est, questa foresta è tua. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.